Ben ritrovati e ben ritrovati a queste lezioni sulle grandi sfide, sulle sfide globali. Nella nostra prima lezione abbiamo discusso della costruzione di nicchie, del fatto che noi cambiamo il mondo e poi il mondo cambia noi. Abbiamo visto tantissimi esempi, abbiamo provato ad estendere questo modello, vedendo come per esempio può capitare nell'evoluzione molto spesso che le nostre capacità tecnologiche, ingegneristiche, architettoniche, diciamo di progettazione, possono modificare il mondo al punto tale che poi noi ci dobbiamo a nostra volta adattare a quel mondo e soprattutto poi trasferiamo quei cambiamenti ai nostri figli e alle generazioni future. In questa seconda lezione rimaniamo in questo tipo di analisi in questo tipo di approccio evolutivo alle grandi sfide, però faremo un lavoro diverso, non più soltanto un modello generale, ma proviamo a calarlo in un caso specifico. In un caso specifico che vedrete si riverbera molto con quello che abbiamo già detto sul climate change, sulla crisi ambientale, ma che naturalmente in questo caso ci riguarda anche molto da vicino e che è la pandemia. Perché la pandemia? Perché ho scelto la pandemia? Ovviamente perché ce l'abbiamo tutti fresca in mente, nella sua drammaticità e in quello che è successo, ma soprattutto perché manca un pezzo, almeno dal mio punto di vista di evoluzionista e di filosofo della scienza. Perché manca un pezzo? Perché, e questo è molto anche umano, comprensibile, noi la pandemia l'abbiamo vissuta giorno per giorno, l'abbiamo vissuta con uno sguardo molto fissato sull'emergenza, sul presente, sui dati che arrivavano giorno per giorno, sulle possibili proiezioni e previsioni. Quello che secondo me è mancato tanto è che noi in queste lezioni abbiamo invece il privilegio, l'occasione di poter fare insieme col giusto tempo, è provare a dare uno sguardo più largo, ancora una volta, uno sguardo evolutivo, più largo nello spazio globale, che vuol dire per me l'ecologia di un fenomeno e naturalmente anche nel più largo nel tempo e quindi dal punto di vista del tempo remoto legato alle pandemie. Il mio primo capitolo quindi di questa lezione è una domanda provocatoria. Nulla di nuovo sotto il sole? Perché dico questo? Allora, da un lato perché l'abbiamo già visto anche nella prima lezione, molti, adesso per fortuna sono diventati sempre di meno, ma qualche tempo fa c'erano gli scettici sul riscaldamento climatico, c'erano quelli che sostenevano, che avevano dei dubbi sul fatto che avesse come sue cause principali le attività umane, quindi che il riscaldamento globale avesse origine antropiche. Tra l'altro stiamo attenti al linguaggio, anche questo è importante, noi oggi tutti ormai lo chiamiamo climate change, quindi cambiamento climatico, però questo termine, questa espressione ha già una storia molto particolare, perché pensate, venne coniato in realtà da chi era scettico sul riscaldamento climatico e fece questa operazione terminologica dicendo chiamiamolo non climate warming, cioè non riscaldamento globale, chiamiamolo climate change che è più neutrale, spaventa di meno e in fondo c'è sempre stato. Quindi in qualche modo abbiamo senza volerlo adottato la terminologia di chi era contro, di chi era scettico nei confronti di questo fenomeno, quindi sarebbe più giusto e corretto continuare a chiamarlo climate warming, cioè riscaldamento globale, perché poi la sostanza del discorso non è tanto che il clima cambia, è vero che è sempre cambiato, il problema è che questa volta cambia molto più velocemente del solito, cambia a causa delle attività di una specie sola e cambia in una direzione precisa, c'è una forzante si dice, c'è una direzione molto evidente verso il caldo. Allora, anche in quel caso nulla di nuovo sotto il sole? Anche riguardo al climate change si è sempre detto, beh insomma il cambiamento climatico c'è sempre stato, ma abbiamo già detto, abbiamo visto che in questo caso c'è invece qualcosa di inedito. Esattamente la stessa domanda possiamo farci a proposito delle pandemie. Anche le pandemie ci sono sempre state, anzi per la precisione diciamo che le pandemie sappiamo per certo che ci sono sempre state a bassissima intensità nei lunghi tempi dell'evoluzione, diciamo dalle origini del genere uomo in avanti, quindi due milioni e mezzo di anni e vi farò vedere tra poco perché abbiamo le prove di questo. Poi dal neolitico in poi, ne abbiamo già parlato la volta scorsa di cosa è stato il neolitico, la capacità di addomesticare le piante e gli animali, le pandemie sono aumentate parecchio, è ovvio no? Perché noi esseri umani a quel punto abbiamo imparato su nostra iniziativa culturale e tecnologica a convivere con animali con i quali prima non convivevamo, quindi bovini, suini, ovini, ma anche uccelli e così via e tutti questi animali sono repertorio, sono magazzino di virus che sono passati a noi e da qui il morbillo, il vaiolo bovino che poi diventavano umano, insomma tutta una serie di pandemie di zoonosi che ci sono state passate. Allora uno potrebbe dire vabbè e quindi la pandemia che ci ha appena colpito così tragicamente da SARS-CoV-2 era ineluttabile? È semplicemente un altro capitolo di una lunga storia ed è coerente con quella storia? La risposta è sì e no, vi farò vedere adesso perché, ma da come rispondiamo a questa domanda già capiamo qualcosa di importante su come affrontare queste sfide globali del nostro tempo. La prendo un po' da lontana ma poi mi avvicinerò molto presto all'obiettivo. Perché ci sono le zoonosi e com'è che fanno i batteri, i microbi e i virus, che sono due cose diverse mi raccomando, sono anche grandi nemici, batteri e virus, lottano gli uni contro gli altri da 2 miliardi e mezzo di anni. Loro hanno delle strategie di mutamento ben chiare. Lo abbiamo sentito tante volte in questi mesi. Il virus, questo virus, in realtà questo virus un po' meno, ma in generale i virus mutano tanto, sono molto mutevoli, accumulano mutazioni genetiche, cioè accumulano mutazioni nel loro materiale ereditario. Cosa sono le mutazioni? Per chi non ha studiato biologia forse è meglio ricordato. Le mutazioni sono degli errori di copiatura. Sono dovute al fatto che il materiale genetico, quando la cellula si duplica o quando c'è la riproduzione, viene copiato e viene trasferito. Quando c'è questa duplicazione, possono sempre insorgere degli errori, come gli errori che si facevano quando si copiavano i manoscritti medievali. Si prendeva il manoscritto, lo si copiava. A un certo punto la manuense, per caso, introduceva un refuso, una parola scritta con una lettera diversa. È esattamente la stessa cosa. Poi cosa succedeva? Quello che veniva dopo, prendeva quella copia, non si accorgeva del refuso e la copiava un'altra volta. Ecco, questa cosa qua è un errore di copiatura che poi si tramanda. È un errore di copiatura casuale, quindi non è dovuto a un influsso ambientale direzionato che è motivato a produrre quella mutazione. Quindi è un po' come una lotteria in cui saltano fuori dei numeri a caso. Ricordatevi bene questa cosa della casualità perché diventerà importante tra poco. Quindi mutano molto, sono piuttosto instabili dal punto di vista genetico e accumulano tante mutazioni. Questo significa tante varianti potenziali. Questa è un'arma per gli agenti patogeni, è un grande vantaggio. Perché è un grande vantaggio? Perché mutare tanto significa sviluppare variazione. E la variazione, questa è una legge fondamentale dell'evoluzione, tenetela bene in mente, più c'è variazione, più c'è potenzialità di cambiamento. Più c'è diversità negli individui, più l'evoluzione funziona bene. La variazione è il combustibile di ogni cambiamento evolutivo, è indispensabile. Viceversa, quando una popolazione biologica è troppo stabile, muta troppo lentamente, è fatta tutta di cloni per esempio, tutti gli individui tutti uguali tra di loro, quella popolazione sarà molto vulnerabile, sarà debole, farà fatica a rispondere all'arrivo di una malattia o a un cambiamento ambientale. Quindi regola fondamentale dell'evoluzione, variare, accumulare mutazioni. Naturalmente entro certi limiti perché le mutazioni hanno un altro problema che possono essere negative, possono essere deleterie, possono far impazzire le cellule per esempio, farle diventare per esempio cellule tumorali. Quindi la mutazione è un giano bifronte, è ambivalente anche lei come quasi tutti i fenomeni naturali, può essere molto positiva, è il combustibile del cambiamento, ma oltre certi limiti può anche essere negativa se non viene tenuta sotto controllo. Il fatto sta che virus e batteri mutano tantissimo, ma mutano tantissimo anche perché loro hanno una tecnica che noi non abbiamo e che loro hanno sviluppato in miliardi di anni, ed è quella che vedete qua. Per mutare, per evolvere, per accumulare variazione, i batteri che vedete qua sono anche capaci di trasferirsi direttamente il materiale genetico. Non è necessario soltanto che accumulino mutazioni quando c'è una duplicazione, se lo passano tra di loro, se lo scambiano, qua si vede le diverse modalità, adesso non entro in questi dettagli, ma vedete che addirittura certe volte, se guardate quello sotto, creano proprio un ponte, un ponte citoplasmatico si chiama tra l'uno e l'altro e si passano, si scambiano materiale genetico. E questo aumenta tantissimo le possibilità di variazione, ulteriore diversità. Pensate, vi faccio solo un esempio, che questo è il motivo per cui i batteri facilmente sviluppano resistenza agli antibiotici. Un'altra sfida globale, un'altra grande sfida del tempo futuro. Su questo non voglio essere una cassandra, però ancora una volta abbiamo tutti i dati per dire e per ricordarci che questo è un grande pericolo che stiamo correndo e che se non stiamo attenti potrebbe succedere qualcosa di molto brutto, cioè che cosa? Che quelli che vengono chiamati super-backs, cioè super-agenti patogeni, super-batteri, possano sviluppare resistenza a tutti gli antibiotici conosciuti, e sarebbe un grosso guaio questo, perché se tu ti prendi uno di questi super-batteri in un ospedale e non c'è nemmeno un cocktail di antibiotici in grado di affrontarlo, questo può essere un grosso problema. Questo è un altro warning, un altro punto di preoccupazione che abbiamo noi che ci occupiamo di sfide globali. Tanto per darvi l'idea, noi oggi sappiamo che ci sono dei batteri, per esempio quelli simili alla tubercolosi e anche quelli dei vari ceppi della tubercolosi, che ormai hanno imparato tra virgolette, grazie a queste tecniche di grande mutabilità, a diventare resistenti a diversi antibiotici. E questo è un grosso problema, ed è anche questa una sfida globale, che è di tipo evolutivo. Anche questa è proprio l'evoluzione darwiniana vista mentre succede. Tu abusi degli antibiotici, tu non usi bene gli antibiotici, attacchi una popolazione batterica e magari non riesci a ucciderli tutti troppo velocemente e rapidamente. Cosa succede? Che ti esponi alla possibilità che una piccola popolazione di quei batteri sviluppi delle mutazioni, per quegli errori di copiatura che dicevo prima, per cui diventano resistenti all'antibiotico. Quella popolazione avrà un grande successo e diventa una malattia resistente all'antibiotico. Questo sta già succedendo e questo è uno dei motivi fondamentali, ricordiamocelo, dobbiamo fare tante battaglie su questo, per cui bisogna ridurre l'utilizzo sbagliato degli antibiotici, smetterla di usare tutti questi antibiotici negli allevamenti intensivi di animali, smetterla per quanto possibile di mangiare alimenti che contengono tutti questi antibiotici, perché stiamo favorendo questa cosa che vedete in questa immagine, cioè che i batteri si organizzino nel corso del processo evolutivo per resistere agli antibiotici e loro lo fanno molto più velocemente di noi, tanto per darvi un'idea, mentre le generazioni umane sono di 25 anni in 25 anni mediamente, quindi noi siamo lenti a imparare dall'evoluzione, una generazione di batteri in 20 minuti, ogni 20 minuti si duplicano, ogni 20 minuti hai una nuova popolazione, quindi hanno delle possibilità molto più forti delle nostre di evolvere, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo essere preventivi, perché noi sappiamo queste cose mentre i batteri non le sanno. Quindi elemento fondamentale, il trasferimento genico orizzontale, questo è semplicemente un'estensione, una curiosità, è soltanto per dirvi che noi oggi sappiamo che addirittura grazie a questo scambio genetico sono nati gli organismi complessi in natura. Noi oggi sappiamo addirittura che le cellule come le nostre, le cellule eucariotiche, quindi le cellule con un nucleo e con gli organelli, no, tutto attorno, ognuno dei quali svolge una certa funzione, sono dei condomini, sono delle cooperative, potremmo dire, in cui organismi diversi si sono messi insieme, hanno condiviso il loro genoma e sono diventati degli organismi più complessi. Per esempio nelle nostre cellule ci sono i mitocondri che sono i batteri delle cellule, no, sono quelli che permettono la respirazione cellulare, hanno un ruolo fondamentale. Beh, i mitocondri una volta erano dei batteri o degli archeobatteri che sono stati fagocitati dentro una cellula più grande e hanno perso la loro autonomia, hanno cominciato a fare qualcosa per la cellula che li aveva fagocitati e sono diventati un collettivo, sono diventati una cooperativa. Questo mettersi insieme, questa acquisizione reciproca di genomi, questa fusione, è un meccanismo che sappiamo essere fondamentale oggi nell'evoluzione e questo è anche il motivo per cui noi oggi sappiamo che quello che abbiamo sempre chiamato albero della vita, Darwin, questo, vi vedete quella bellissima pagina in cui Charles Darwin, giovanissimo, era appena tornato dal suo viaggio in giro per il mondo, quando capisce l'evoluzione la dipinge, ne fa un disegno e il disegno cos'è? È un albero, è l'albero della vita, vedete con l'antenato comune e poi tutti i rami che si divaricano, che si dipartono e anche i batteri, i virus fanno così, si ramificano, si diversificano in tanti rami. Però diciamo che quello che abbiamo scoperto rispetto a Darwin è che qualche volta può anche succedere che questi organismi non soltanto evolvano dividendosi e ramificandosi, ma qualche volta si scambiano anche direttamente il materiale genetico in orizzontale, quindi è un albero intricato, è un albero con tanti rami ma ogni tanto ci sono delle connessioni laterali e adesso ve ne farò vedere qualcuna di sorprendenti di connessioni laterali. Una è questa, qua vedete una raffigurazione metaforica della molecola del DNA, la meravigliosa doppia elica che abbiamo tutti noi nei nuclei di ognuna delle nostre 30.000 miliardi di cellule che compongono il nostro corpo, beh cosa si scopre? Si scopre che circa l'8% del DNA umano è di origine virale, com'è possibile questo? Dentro il nostro DNA, sì proprio dentro il nostro DNA, cioè proprio dentro la linea di discendenza umana. Questo perché ci sono alcuni tipi di virus che non sono come il SARS-CoV-2, quindi è un'altra storia questa, per fortuna il SARS-CoV-2 almeno questo non ce l'ha, si chiamano retrovirus, i quali hanno questa tecnica che fanno uno stampo del loro materiale genetico e lo infilano dentro il loro ospite e quando questi virus attaccano le cellule sessuali, quindi le cellule uovo e gli spermatozoi, infilano il loro DNA nelle cellule che poi si tramandano, che tramandano il DNA. Risultato, nella linea di discendenza umana è entrato dentro un po' di DNA virale e guardate che l'8% è tanto, è tanta roba, nel senso che è veramente una porzione consistente e sicuramente è una parte di DNA che non serve a niente o forse no, diciamo che in generale è materiale genetico che ci arriva dall'esterno da un attacco di un agente patogeno che parassitandoci ce l'ha infilato dentro e noi ce lo portiamo dietro. Questo tra l'altro, faccio una parentesi, ci parla anche della ingegneria del DNA, che è una cosa importante, il DNA è un sistema meraviglioso, è una macchina di immagazzinamento e trasferimento di informazione meravigliosa, ma non è una macchina perfetta, è una macchina dentro la quale ci sono tantissime imperfezioni, tantissime ridondanze. Pensate che il nostro DNA umano è lungo 3 miliardi e passa di basi, cioè di, l'avete studiato anche al liceo, di unità singole, le basi nucleotidiche, 3 miliardi. Di quei 3 miliardi, cioè di quel mare di basi nucleotidiche, soltanto 22 mila geni servono a qualche cosa, cioè i geni umani sono pochissimi, sono 22 mila che galleggiano come delle frasi, come dei paragrafi dentro un'enciclopedia enorme. Gran parte di questa enciclopedia è fatta di sequenze che si ripetono a caso, che non servono a niente, che hanno soltanto una funzione di spaziatura, cioè di distanziamento tra i geni, qualche volta hanno funzioni regolatorie e dentro questa giungla del DNA, questa macchina ingegneristica estremamente complicata, c'è dentro anche del DNA virale. Perché è interessante questo? Beh, per due cose. Primo, un po' l'abbiamo già detto, perché se noi guardiamo l'albero della vita ricostruito da questo grande biologo Ford Ulittle, dell'Università di Dulausi in Canada, beh, ci rendiamo conto che se guardiamo le basi dell'albero della vita sono molto connesse tra di loro, vedete tutte quelle frecce che si scambiano lì sotto, perché si scambia continuamente materiale genetico. Ma poi è una cosa ovvia, se noi scappiamo e scopriamo che l'8% del nostro DNA è di origine virale, cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri antenati, nel passato antico, quando c'erano altre specie umane, per esempio, sono sopravvissuti a tantissime pandemie. Quindi, se la mettiamo così, allora è vero che le pandemie ci sono sempre state. Certo, ci sono sempre state, tant'è vero che questo bravissimo autore che vedete qui, che si chiama David Quammen, l'ho già citato anche nella lezione precedente, l'autore di un capolavoro che si chiama Spillover, un libro che racconta la storia delle pandemie e dei passaggi di specie dagli animali portatori di virus all'uomo. Ha scritto, dopo Spillover, questo libro bellissimo, anche se intitola L'albero intricato, un altro suggerimento di lettura che vi do, dove racconta proprio tutte queste storie del trasferimento genico tra batteri e virus, esseri umani, virus e altri ospiti che vengono parassitati. Quindi si scopre che l'albero della vita è molto più intricato e molto più legato in orizzontale di quanto non si pensi. E in questo libro David Quammen dedica ampie pagine proprio per ammonirci sul pericolo della resistenza agli antibiotici e quindi prevede che avremo dei problemi con la resistenza agli antibiotici. State molto attenti perché vi farò vedere tra poco che David Quammen quando fa una predizione è meglio ascoltarlo, ma ve la faccio vedere tra poco. Questa è una scoperta bellissima che è uscita qualche anno fa. Prima ho detto quel DNA, quell'8% di DNA virale non serve a niente. Sorpresa! Non serve a niente in generale, ma qualche volta l'evoluzione è capace di sorprenderci. Perché? Perché l'evoluzione, questo è un altro messaggio molto importante che volevo condividere con voi. L'evoluzione, qui non me ne avrete a male, non ragiona tanto come un ingegnere, nel senso che non ragiona tanto con l'idea di una progettazione, di una pianificazione, di una macchina e poi di un controllo. Diciamo che l'evoluzione non può fare così perché l'evoluzione non parte mai da zero. L'evoluzione parte sempre da qualcosa che c'è già, parte sempre da un materiale che c'è a disposizione. E cosa fa? L'abbiamo già detto, fa di necessità virtù. Il che vuol dire che utilizza il materiale esistente, con la sua storia, con i suoi vincoli e anche con le sue potenzialità e lo riutilizza per nuove cose. Fa bricolage. Quindi potremmo dire che l'evoluzione funziona più come un artigiano che non come un ingegnere. Quindi non pianifica da zero, ma se gli chiedi di aggiustarti una scarpa, lo fa, a partire da un materiale esistente, mettendoci dentro dei pezzi nuovi. Se gli chiedi di riutilizzare qualcosa per un'altra funzione, lo fa, perché è un artigiano e riesce ad arrangiarsi. Ecco, l'evoluzione funziona così. E qua lo vedete con un esempio pazzesco, perché che cosa si scopre qua? Si scopre che uno di quei geni, di quelle sequenze virali, messe dentro durante antiche pandemie, dentro il nostro DNA, è stato poi, nel corso dell'evoluzione dei mammiferi, riutilizzato per una funzione fondamentale, che è lo sviluppo della placenta nelle donne che naturalmente cominciano a coltivare al proprio interno la nascita e lo sviluppo di un nuovo individuo, un nuovo esemplare di una qualsiasi specie e ovviamente vale anche nel caso umano, e soprattutto è un gene che serve a modulare, diciamo, la relazione immunitaria tra la madre e il bambino che sta crescendo. Perché naturalmente bisogna assolutamente evitare che il corpo della madre respinga, come se fosse un corpo estraneo, questo bimbo che gli sta crescendo in grembo. Allora questa sincitina A, che è questo gene collegato proprio a questo sviluppo, serve esattamente a modulare questa reazione e a sviluppare quella meravigliosa organo, quel tessuto fantastico che è la placenta, che protegge ma lascia passare, che quindi è una sorta di membrana in evoluzione e in sviluppo. Bene, tutto questo grazie a un gene virale, tutto questo grazie a un gene che non serviva a niente prima, tutto questo grazie a un gene che prima invece era un nemico, che è arrivato da un nemico, ma poi noi lo abbiamo inglobato, ce lo siamo tenuto e cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo, abbiamo trasformato un rischio in un'opportunità, abbiamo trasformato qualcosa che non serviva a niente in qualcosa di fondamentale. Questo è tipico dell'evoluzione e lo vedremo in qualche altra occasione. Questo meccanismo che vi ho appena descritto, tecnicamente nell'evoluzione si chiama exaptation, lo vedete scritto qua, è una parola difficile ma ve la spiego semplicemente, vuol dire che mentre quando tu hai un adattamento, di la parola normale adattamento, cosa succede? Hai un processo evolutivo che porta allo sviluppo di una struttura che svolge una certa funzione, ecco perché si dice adatto, serve, svolge una certa funzione. Exaptamento vuol dire che io prendo qualcosa che si era già sviluppato prima, da un processo pregresso e lo riutilizzo per fare qualcosa di nuovo, quello è l'exaptation, non ha una traduzione italiana, si può dire exattamento ma è molto brutto, lo lasciamo in inglese, si chiama exaptation. Se volete ricordarlo è il bricolage, bricolage evolutivo, riutilizzare continuamente cose che ci sono già per fare qualcosa di nuovo, ok? Poste queste premesse possiamo a questo punto analizzare, in un modo che spero sia quantomeno originale, la storia di Covid-19 che è la malattia, la storia di SARS-CoV-2 che è il virus, la creatura invisibile che ci ha attaccato, da una prospettiva nuova, da una prospettiva evolutiva, cioè da una prospettiva da grandi sfide, da sfide globali. Ed è molto importante da fare perché altrimenti usciamo da questa pandemia senza avere capito qual è il suo messaggio fondamentale e senza averne capito la lezione anche, potremmo dire. Allora, guardate questa slide, vi ho estratto un articolo dove ci sono alcune dichiarazioni riportate, lo abbiamo sentito dire tante volte, coronavirus, il vaccino farà aumentare le mutazioni ma non fermerà le nostre cure, eccetera, eccetera. Cosa c'è di pericoloso in una affermazione di questo tipo, che non dipende dalla giornalista qui, ma purtroppo l'hanno usata anche i miei colleghi e si continua ad usare come una sorta di metafora così per farsi capire, che è completamente sbagliata. Se c'è un vaccino in circolazione che funziona e che ci permette di bloccare la pandemia, di non farla girare e soprattutto di non avere sintomi gravi quando veniamo colpiti, non è il vaccino che fa aumentare le mutazioni. Come vi ho spiegato prima, le mutazioni sono degli errori di copiatura casuali, non sono causate da un evento esterno, sono degli errori spontanei che vengono fuori. Quindi i vaccini non causano e non inducono le mutazioni virali. Quello sarebbe la Mark, cioè l'idea che l'ambiente direttamente incide sulla emergenza delle mutazioni e fa cambiare direttamente gli organismi, ma non è così. Gli organismi sviluppano mutazioni, variazioni, le quali in base all'ambiente in cui vivi in alcuni casi ti fanno sopravvivere meglio e riprodurti di più. Ne abbiamo già parlato la volta scorsa, no? Quello è il meccanismo darwiniano fondamentale. Secondo, i virus accumulano quindi mutazioni, così come qualsiasi essere vivente, non per sfuggire ai vaccini. Il virus non pensa, non ha strategie, non ha intenzioni, non fa le cose per avere un vantaggio. Il virus è una macchina biologica banalissima dal punto di vista, come dire, stutturale. È una cosa semplice, è un filamento di RNA con intorno una capsula di proteine, per carità, proteine sofisticate che poi vanno ad attaccare certi tipi di cellule delle loro ospite, però non è niente più di quello. Non deve neanche sopravvivere più di tanto, deve solo riprodursi, deve entrare in una cellula e fare copie di se stesso. Uccide quella cellula, esplode, escono virus, colonizzano altre cellule, si moltiplicano, esplodono e vanno fuori. Basta, fa solo quello, solo quello, copie di se stesso. Quindi, quando, questo è un insegnamento molto importante sempre quando affrontate i problemi in chiave evolutiva, toglietevi dalla testa qualsiasi finalità, qualsiasi direzione, non ci sono direzioni nell'evoluzione, non è che si fanno le cose per un obiettivo, le cose succedono, ci sono dei fenomeni, dei meccanismi, il virus non ha intenzioni, quindi le mutazioni lui non le accumula per sfuggire al vaccino, ma il meccanismo è diverso e vi farò vedere tra poco perché bisogna interpretarlo in modo diverso, anzi ve lo dico subito, perché anche in questo caso, se noi capiamo qual è davvero la strategia evolutiva del virus, ci possiamo far trovare più pronti la prossima volta, cioè possiamo avere una strategia preventiva, cosa che in questo momento nessuno sta facendo, non so se l'avete notato, noi adesso stiamo pensando ancora all'uscita da questa pandemia, ai vaccini, alle terze dosi, alla protezione e diciamo al venire fuori da questa emergenza, ma non basta, questa è soltanto la prima linea di difesa, poi dovrebbe esserci la seconda, qual è la seconda linea di difesa? Evitare la prossima, rendere più difficile che succeda la volta prossima, no? Questa è la prevenzione, se io so e capisco bene cos'è successo questa volta, posso sviluppare delle strategie affinché sia meno probabile, impossibile non si può, è meno probabile che venga fuori un'altra cosa simile la prossima volta, un'altra dinamica simile che ci faccia così male. Allora, vi propongo questa interpretazione, questo è un altro dei paper che vi ho lasciato come diciamo bibliografia consigliata, non spaventatevi, è in inglese, è uscito su un'importantissima rivista che è Cell, ma è una review, quindi non ci sono termini tecnici, non c'è matematica difficile, è una review, quindi è un articolo divulgativo che si può leggere benissimo senza nessuna particolare conoscenza scientifica pregressa. È un articolo bellissimo, è uscito, lo vedete, nel settembre del 2020, nel pieno, diciamo, del passaggio dal primo lockdown a poi l'autunno difficile che abbiamo avuto nel 2020. Il titolo è molto significativo, vedete, malattie pandemiche emergenti, come siamo arrivati a Covid-19? Già il titolo è interessante, come siamo arrivati a Covid-19? Cioè, è un articolo sulla evoluzione del virus, com'è che siamo arrivati a una situazione di questo tipo? Questo è interessante. E se leggete il sommario, vedete che l'impostazione di questo articolo è evoluzionistica, cioè ti dice, andiamo a vedere cosa c'è di normale in quello che è successo questa volta e cosa c'è di eccezionale, quindi la domanda di partenza. Nulla di nuovo sotto il sole? Cioè, ci sono sempre state le pandemie o c'è qualcosa di particolare stavolta? Perché se c'è qualcosa di particolare è meglio saperlo. Seconda parte del sommario, lo leggete qua, per rispondere alla prima domanda bisogna applicare un'analisi ecologica, la parola magica qui è ecologia. E questo ve lo suggerisco, nel senso non soltanto chi di voi farà ingegneria ambientale o un'ingegneria focalizzata su questo, ma in generale l'ingegneria del futuro non potrà fare a meno di considerare gli aspetti ecologici nei quali voi andrete a lavorare e andrete a progettare. Allora vediamo in concreto cosa significa un'analisi evolutiva ed ecologica. Allora innanzitutto capire cos'è successo questa volta. Io vi aiuto anche nello studio, diciamo, nella preparazione poi dell'esame, questa è proprio una sintesi, vi faccio, vi sgrano proprio i contenuti dell'articolo. Allora, questa pandemia, dicono gli autori, tra l'altro non sono dimenticato di dirlo, gli autori sono importantissimi, sono David Morens, che è un importantissimo virologo americano dell'NIH, cioè degli istituti nazionali per la salute americani, e l'altro è Tony Fauci, il famoso virologo che avete visto in televisione sicuramente tante volte vicino ai presidenti degli Stati Uniti. È il capo del dipartimento di competenza dell'NIH per le pandemie. Quindi due firme pesanti. Cosa ci dicono Morens e Fauci? Ci dicono che questa è stata una tempesta perfetta. Cosa si intende per tempesta perfetta nell'evoluzione, ma anche nel clima? Si intende una situazione in cui vengono a crearsi delle condizioni molto particolari, in cui succede qualcosa di drammatico, di improvviso, ma non come le altre volte. No, è una tempesta perfetta, cioè è qualcosa di veramente eccezionale. Quindi sì, è successo qualcosa di eccezionale, perché è un virus che non conoscevamo prima, quindi completamente sconosciuto al nostro sistema immunitario, che ci ha infettato in modo sostenuto, quindi novità. E tutte le novità dal puntista virologico, patologico, sono pericolose. È un virus con una straordinaria efficienza darwiniana, potremmo dire, evolutiva, perché si trasmette con una facilità notevole e purtroppo per noi ha tanti asintomatici, cioè ha tante persone che se lo portano dietro senza saperlo e questa è una strategia purtroppo molto efficace per il virus. Perché se un virus colpisce, come per esempio Ebola, Ebola è un virus terribile, anche lui è un virus RNA, ma molto diverso dal coronavirus. Ebola è un virus terribile che ha degli effetti orrendi, rompe le membrane interne del corpo, però ha un difetto dal suo punto di vista, lo vedi subito, capisci subito quando uno è malato di Ebola e quindi lo trovi subito, lo becchi subito il virus, capisci subito che è lì e quindi puoi recintarlo, puoi bloccare immediatamente la pandemia. Quando hai l'epidemia, il focolaio diciamo, limitatamente a come sei capace ovviamente di controllarlo, ma un virus che su una parte dei suoi infettati non si mostra se non dopo un po' di tempo oppure non si mostra mai, quello è molto pericoloso perché naviga in modo silenzioso, si diffonde in modo silenzioso, ecco perché è stata una tempesta perfetta. Il suo cugino, il suo antecedente che è la SARS, di cui forse avrete sentito parlare dei giornali o degli articoli, la SARS che è esplosa all'inizio del secondo decennio di questo secolo, anche questo in Asia e così via, ha fatto danni, si è diffusa in Estremo Oriente, stava per diventare una pandemia, ma aveva un difetto quel virus lì, dava sintomi subito, capivi subito che uno ce l'aveva e quindi lo bloccavi immediatamente e quando c'è stata la SARS dieci anni fa, molti avevano detto attenzione perché se salta fuori un SARS 2 con degli asintomatici saranno guai, perché sarà come questo ma potrà viaggiare in aereo senza mostrarsi e quindi farà il giro del mondo, l'avevano già detto dieci anni fa, ma su questo ci torniamo, perché questa pandemia era stata perfettamente prevista dieci anni fa. Quindi fitness, grande fitness darwiniana e poi un relativo alto livello di morbidità e di mortalità, cosa vuol dire? Vuol dire che per fortuna poche persone, ma comunque tante rispetto alla massa complessiva, hanno sintomi severi che poi purtroppo li portano alla morte, una gran parte ha sintomi diciamo accettabili e medi e un'altra parte ha addirittura sintomi lievissimi o zero sintomi, quindi asintomatici. Tutto questo è una strategia dal punto di vista del virus, purtroppo per noi, perfetta. Ecco perché è stata una tempesta perfetta. A questo punto possiamo fare un riepilogo, una storia e loro la fanno, dicono guardate, le pandemie hanno aumentato, sono aumentate in numero dalla transizione neolitica in avanti, quindi loro vedete, li chiamano i primissimi passi nella manipolazione della natura sistematica e su larga scala. Ve l'ho già detto anch'io, no? Il neolitico, l'agricoltura è esattamente questo, è come dire, l'inizio appunto, come dicono giustamente loro, della nostra manipolazione della natura, non trovo delle parole migliori che dirle che non quello. Bene, tra i suoi effetti collaterali, vi ricordate quello che abbiamo visto nella lezione scorsa, in quel cambiamento ambientale noi abbiamo il fatto che come effetto collaterale aumentano le zoonosi riemergenti e quindi li vedete la lista, no? La peste bubonica, il morbillo, la malaria, eccetera, eccetera. E fino alla influenza aviaria, l'HIV, fino alla spagnola, l'influenza aviaria che ha fatto 50 milioni di vittime, subito dopo la fine della prima guerra mondiale, probabilmente diffusa nelle trincee proprio della grande guerra e che si è verificata esattamente un secolo fa e che è stata l'ultima grande pandemia paragonabile a quella che c'è stata questa volta. Allora, se uno si ferma qui, se uno si ferma qui, la risposta alla domanda di partenza è proprio quella, c'è niente di nuovo sotto il sole, è un ennesimo episodio storico coerente con la natura di questo meccanismo e invece no. E qua viene la parte più antipatica del paper, diciamo, è anche quella meno rassicurante. No, perché no? Perché lo vedete, nell'ultimo decennio le esplosioni pandemiche senza precedenti sono aumentate. E lì c'è l'elenco. Ebola, Zika, la SARS, poi la MERS, poi Covid-19 e ancora prima l'influenza aviaria e così via. Se voi guardate i grafici, sembra quello che abbiamo visto nella scorsa lezione. Una lunga convivenza con le pandemie va avanti per tanto tempo e poi, dagli anni 80 in poi, la curva sale. E la curva sale al punto tale che questi due autori, vedete, introducono questo termine nuovo che è l'era pandemica. Siamo entrati nell'era pandemica. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire, vi ho preso proprio degli stralci del paper, vuol dire che siamo entrati in un'epoca in cui le pandemie diventano più frequenti e più violente, più pericolose. Qui ve l'ho isolato questo pezzo perché dice quello che vi ho già detto io prima, quindi vado via veloce, cioè dobbiamo stare attenti in questo gioco perché è scritto qua, gli agenti patogeni mutano più velocemente di noi, evolvono, si trasferiscono i geni l'uni con gli altri, come abbiamo visto prima nei batteri, riutilizzano sequenze genetiche già esistenti. Insomma, sono delle creature che evolvono molto velocemente e vedete la conclusione del paper è quando c'è un conflitto, un antagonismo, un processo di coadattamento tra noi e loro, loro sono sempre un passo avanti, loro sono sempre un po' più in là e lo stiamo vedendo e continueremo a vederlo. Noi abbiamo i vaccini, ma ci sono le varianti che vengono fuori, dobbiamo fare i richiami e poi dovremo fare degli altri richiami e poi dovremo modulare i vaccini perché saranno venute fuori altri varianti. Lui, l'agente patogeno, è sempre un passo più avanti e questo è normale. Allora cosa suggeriscono questi autori? Suggeriscono di fare degli elenchi, facciamo le mappe e loro qua per esempio, questa è una tabella, dove c'è proprio l'elenco di tutte le infezioni dovute a passaggio di agenti patogeni all'uomo emergenti, elencate, quante vittime hanno fatto, delle caratteristiche e vedete che le dividono in categorie, ci sono casi rarissimi, pandemie dovute a incidenti perché sono scappati agenti patogeni dai laboratori oppure intenzionalmente rilasciati oppure anche, come il caso del vaiolo, ci sono agenti patogeni che noi siamo riusciti a eradicare, cioè a forza di vaccini e a forza di impedirgli di variare, siamo riusciti a sconfiggerlo e ce l'abbiamo adesso soltanto in laboratorio finché, speriamo, non succeda mai, dovesse mai saltar fuori, saremo più veloci nel trovare ovviamente vaccini modulati. Quindi si possono eradicare, non sto dicendo che sono invincibili, assolutamente. Qua vedete le principali categorie di malattie infettive dovute ad agenti patogeni, quelli emergenti di nuovo, quelle come Ebola che tornano fuori ogni tanto, vedi anche il caso dell'antracee che succede normalmente, quelli deliberatamente emergenti e quelli accidentalmente emergenti. Tra l'altro faccio una parentesi che è importante perché so che ci starete pensando perché subito tutti l'associano, ma cosa sappiamo dell'origine artificiale o naturale di questo virus? Qui non possiamo ancora dare una risposta perché purtroppo le informazioni non sono sufficienti, però la cosa importante è che nella scienza bisogna dirsela sempre tutta, non ci sono tabù e noi lo vedremo in una delle prossime lezioni. Noi con l'ingegneria genetica, quindi con una branca del vostro campo, l'ingegneria applicata al DNA, possiamo manipolare i virus? Lo facciamo, non lo faccio io, lo fanno diversi ricercatori in varie parti del mondo, i virus vengono presi, portati in laboratorio, vengono alterati geneticamente, vengono introdotte apposta delle mutazioni, ma non perché vogliamo creare il laboratorio dei mostri, ma perché manipolandoli in laboratorio questi ricercatori sperano di riuscire ad anticipare le loro mosse, alla luce di quello che abbiamo detto prima, visto che loro sono sempre in vantaggio, ma se io li prendo, me li studio prima e provo magari a simulare come potrebbero mutare, questo potrebbe darmi un vantaggio. Queste sono ricerche controverse, non tutti sono d'accordo nel farle, perché sono pericolose e, è vero, portano a sviluppare nei laboratori di ingegneria genetica, in ingegneria in questo caso dei virus, portano ad avere dei ceppi molto pericolosi, che potrebbero scappare, potrebbe succedere qualcosa, un incidente è sempre possibile, quindi alcuni dicono che non sarebbe il caso di fare queste ricerche. Poi c'è un altro problema, è che quando fai queste ricerche poi le devi pubblicare sulle riviste scientifiche e quindi cosa succede? Che pubblicandole tu dai le istruzioni per farlo, perché praticamente pubblichi come lo hai fatto e quindi da quel momento in poi tutti sanno quali mutazioni, in quale virus possono renderlo più pericoloso, quindi diciamo che sono ricerche controverse, mettiamola così. Ecco, però non bisogna negare che succeda questo, però bisogna capire se nel caso specifico di SARS-CoV-2 possa essere successo qualcosa del genere e al momento i dati a nostra disposizione ci dicono di no, di no perché questo virus assomiglia moltissimo all'albero genealogico da cui è venuto, quindi è cugino di quelli che sappiamo, ha una storia evolutiva piuttosto chiara, non sappiamo ancora bene come ha fatto lo spillover, quindi c'è qualche elemento ancora da capire, però diciamo che tutto lascia pensare che sia di origine naturale, anche se non possiamo escludere quello, finché non abbiamo tutte le informazioni non possiamo escludere, che possa essere accidentalmente uscito da un laboratorio, però al momento non abbiamo i dati per dirlo. In questo articolo sono molto espliciti, molto trasparenti, vi fanno vedere tutte le diverse tipologie. Questa è una mappa bellissima dove le stesse categorie di prima le vedete tutte distribuite nel mondo e quindi le pandemie nuovamente emergenti, quelle che emergono invece continuamente, vedete tutta la distribuzione nel mondo e vedete che è un fenomeno globale, molti casi in Africa, tanti casi in Nord America, molti più di quanto non possiate pensare e tanti casi in Asia, però vedete che non c'è solo l'Asia, non è che è sempre colpa dell'Asia perché la SARS e Covid-19 sono arrivate da lì, è un fenomeno globale, è una sfida globale, è una grande sfida e come la si affronta? Studiandola, facendo ricerca scientifica e facendo scienza preventiva, sottolineo questo aspetto. Ricapitoliamo a questo punto i contenuti principali di questa prima parte della seconda lezione. Allora abbiamo visto che i microbi hanno avuto molto più tempo di noi per sviluppare strategie evolutive e dunque dovremmo stare prudenti. Inoltre i microbi hanno anche armi aggiuntive, per esempio si scambiano i geni direttamente, quindi possono evolvere molto velocemente. Le pandemie in generale abbiamo visto che hanno precise ragioni ecologiche, cioè non vengono dal nulla, ma da relazioni tra noi e l'ambiente. Infine le pandemie ci sono sempre state, certo, ma adesso siamo entrati nell'era pandemica. Questa è una slide un po' tecnica, ma voglio solo farvi capire un po' cosa vuol dire. Questo è il motivo per cui ancora non sappiamo come ha fatto il salto di specie, perché per fare il salto di specie il virus deve superare una barriera adattativa, cioè non è facile per un virus che è sempre stato in un pipistrello o in un pangolino adattarsi a un mammifero diverso, come siamo noi. Anche lui ha un problema di adattamento, deve superare una barriera adattativa e può farlo in tanti modi o diversificandosi in tanti ceppi, vedete che il segreto è sempre diversificazione e poi finché uno di questi ceppi non riesce ad adattarsi al nuovo ambiente, perché noi per i virus siamo un ambiente, siamo una nicchia ecologica, oppure come vedete nell'altra slide sotto a destra, ci colonizza con scarso successo, ma poi si moltiplica, si diversifica finché salta fuori una variante che fa la tempesta perfetta di cui vi dicevo prima. Quindi non sappiamo ancora bene che cosa sia successo, però questa è l'evoluzione del virus, il virus evolve così, vedete, variazione, coadattamento ad un nuovo ospite. Questo è un dettaglio, siccome se ne parla tanto un po' a sproposito, volevo soltanto focalizzarvelo nel paper, non è detto che con il passare del tempo un virus diventi sempre meno letale. È stato detto tante volte che succederà così, ma non è detto, qualche volta succede così, qualche volta no. Perché qualche volta no? Perché qualche volta le varianti sono tali per cui vai a saperlo, magari salta fuori un ceppo che ha ulteriori capacità contagiose di trasmissione. Quindi mai fidarsi troppo di questa presunta legge per cui il virus diventa più buono con il passare del tempo. Ok? Qua vi spiega proprio bene perché non è detto che succeda questo. Tra l'altro questo è anche il motivo per cui, faccio una parentesi diciamo di dibattito, poi sarà nella parte più interattiva, ne discutiamo molto volentieri. Questo è il motivo per cui non è stato molto intelligente vaccinare soltanto metà del mondo, la parte più ricca del mondo. Perché intanto che vacciniamo la parte più ricca del mondo, lasciamo l'altra metà del mondo essere un amplificatore del virus che continua a girare, continua a fare copio di se stesso, gli diamo più chance per sviluppare varianti. Cosa che è l'esatto opposto di quello che dovremmo fare. Quindi quando si prende un antibiotico contro un batterio, quando si usa un vaccino contro un virus, bisognerebbe usarlo con azione globale in modo da ridurre il più possibile la possibilità che lui faccia variazioni, che faccia mutazioni. Ma sapete che non abbiamo fatto così. E guardate questa è un'altra tabella che c'è nel paper, molto bella, un po' difficile ma se imparate a leggerla è molto chiara. Vedete che ci sono tre cerchi, una specie di triangolo tra tre cerchi e poi c'è una intersezione in mezzo. L'intersezione è la malattia, è la tempesta perfetta. I tre cerchi sono le condizioni che rendono possibile quella tempesta perfetta. Uno ovviamente è l'agente, cioè i virus. Sono tanti, bisogna conoscerli, hanno una loro biodiversità, però lì possiamo fare tanto ma non più di tanto, nel senso che c'è anche molto elemento di sorpresa, non è che possiamo davvero andare, sarebbe bello ma sono tantissimi gli agenti patogeni, sono decine di migliaia, quindi vai a sapere tu là fuori, negli altri animali quali agenti patogeni potenzialmente letali per noi ci sono. Però diciamo c'è l'agente. Poi c'è l'ospite, che siamo noi in questo caso. Cosa fa l'ospite? Quali sono i comportamenti che ha l'ospite, che possono favorire o meno l'attività dell'agente patogeno? Per esempio i virus come questi, come il SARS-CoV-2, noi lo sappiamo, che amano le specie sociali e mobili, come i pipistrelli e questo è ovvio no? I pipistrelli vivono in colonia di milioni di individui, hanno delle vere e proprie città, un po' come noi, quindi e poi volano, quindi sono molto mobili, quindi hanno tutte le caratteristiche per essere colpiti da questi virus, solo che piccolo dettaglio, anche noi siamo così, siamo 8 miliardi, siamo sociali, siamo mobili, ci spostiamo con gli aerei intercontinentali, quindi noi siamo un ospite perfetto per i virus e ce ne eravamo dimenticati. Poi c'è il terzo cerchio che è l'ambiente, che interagisce, cioè l'ecologia, che interagisce con l'agente patogeno e con l'ospite. Questo è il modo ecologico, evolutivo per capire la sfida globale in cui siamo immersi. Se la guardate soltanto da un punto di vista medico o da un punto di vista virologico, esclusivo, non capite cosa sta succedendo fuori, no? Non capite tutta la dinamica complessiva di questa sfida globale. E qua viene il punto forse più delicato, ma forse il punto più importante di questo paper ed è il motivo per cui l'ho scelto e ve l'ho proposto. Abbiate visto prima i tre cerchi, gli ospite con i suoi comportamenti, l'ambiente e poi ci sono gli agenti patogeni. Ora, noi gli agenti patogeni sappiamo cosa fanno, ve l'ho spiegato fino adesso, va bene, sono pericolosi, mutano, ok. Ma sulle altre due condizioni possiamo fare qualcosa? Certo che possiamo fare qualcosa, il problema è che quello che abbiamo fatto fino adesso è esattamente il contrario di quello che dovremmo fare. Questa è una lista che c'è nel paper, che potete trovare, di quelle che i due autori chiamano Human Ecologic Nishes. Vedete che siamo sempre lì, costruzione di nicchia, cioè queste sono le nicchie ecologiche, cioè gli habitat che l'uomo crea e che sono perfetti per i virus. Portare l'acqua, il water storage practice, quindi le pratiche di accumulo dell'acqua che possono favorire il fatto che ci vengono messe le uova di insetti che poi trasferiscono malattie come le zanzare e non solo. Lo spostamento dei copertoni sulle navi con l'acquetta dentro che è stata la principale causa, banalissima ma è questa, dell'arrivo delle zanzare tigre e di tutte le zanzare tropicali che sono arrivate e che hanno ormai infestato tutta Italia e portano malattie. In Italia ancora poco per fortuna, ma in altri paesi portano zicche, dengue, portano un sacco di malattie pericolose. La deforestazione, l'abbiamo detto, costruzione di strade, condizioni sociali, la povertà, le guerre, i wet market, l'abbiamo già detto anche la volta scorsa, sono l'habitat perfetto per i virus, gli allevamenti intensivi, il climate change. Questa è la sfida globale che abbiamo davanti, perché? Perché tutte queste sono tutte pratiche umane, di progettazione umana, di mala progettazione umana potremmo dire, che aumentano la probabilità di pandemia. Quindi vedete che è un problema complesso, gli ingegneri del futuro, gli ingegneri dei processi, gli ingegneri che dovranno riprogettare non soltanto i prodotti ma anche i processi della nostra vita, voi, avrete davanti problemi così complessi, dove è difficile sapere da che parte si comincia a intervenire su un problema così sfaccettato e così molteplice. E allora, se le cose stanno così, la proposta finale di questo articolo qual è? È una proposta molto semplice, ma purtroppo fino adesso totalmente disattesa. Lo vedete lì, loro propongono una strategia evolutivamente informata. Cosa vuol dire? Vuol dire, quello che ho detto prima, i vaccini sono sacrosanti e ci tolgono dai guai, ma sono soltanto la prima linea di difesa. La seconda linea sono quella lista di interventi che vedete lì, che riguardano la salvaguardia delle specie, l'interruzione della deforestazione una volta per tutte, la sorveglianza sulle zoonosi, le analisi degli animali portatori dei virus, il rispetto del loro ambiente, l'abolizione del commercio illegale degli animali esotici, eccetera, eccetera. E quindi sorprendentemente vedete che la conclusione di questo paper è questa. Le pandemie come quella da SARS-CoV-2 andrebbero interpretate come un costo ambientale. So che può sembrare strano, perché come di solito il costo ambientale pensa a un'alluvione, pensa a una siccità prolungata, pensa, che ne so, all'incendio della foresta. No, anche la pandemia è un costo ambientale. Ed è un costo ambientale che va interpretato in chiave di One Health, ancora una volta, di salute integrata, di salute globale. Perché? Perché le pandemie ci sono sempre state, gli agenti patogeni fanno il loro mestiere, ma se io li aiuto creando degli habitat, delle condizioni ecologiche, con i miei comportamenti, con la mia cattiva progettazione, io favorisco quelle pandemie. Quindi se la pandemia viene fuori e mi fa particolarmente male, come è successo questa volta, devo imputarla anche ai cambiamenti ambientali, a un problema ambientale. E questa è la conclusione del paper, dove vedete, loro dicono, la pandemia da Covid-19 è stato un altro reminder storico, è stato un campanello d'allarme che ci ha ricordato quanto è aggressiva, dannosa e sbilanciata, l'interazione umana con la natura. E quindi se noi vorremmo ridurre la possibilità che succeda ancora, dobbiamo aver cura dell'ambiente, aver cura del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, ed essere un po' più previdenti e intelligenti, sapendo quali sono le strategie dei virus. A questo punto, fatta l'analisi della dinamica, piuttosto analitica, ma era importante anche perché così potete studiare meglio quell'articolo della pandemia. Possiamo tornare ad allargare lo sguardo e a ricollegarlo anche a quello che abbiamo fatto anche nella scorsa lezione. Qui vedete questo strano titolo, La Regina Rossa si mette nei guai. Perché? Perché La Regina Rossa è una metafora evolutiva molto bella che è stata inventata qualche tempo fa nel mio campo di studi. Ve la spiego tra poco. Questo è un editoriale che è uscito su una importantissima rivista, Natural Ecology and the Evolution, nel quale sostanzialmente si fa una sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso. Cioè questa pandemia è stata, so che può sembrare cinico nel dirlo, ma è stato un esperimento evolutivo. Cinico perché ha avuto grandi perdite, anche nel mio caso io vengo da Bergamo, quindi so benissimo che cosa è stata. Però dobbiamo avere, adesso che è successa la freddezza per capire che cosa è accaduto. Ed è accaduto un fenomeno evolutivo, perché dentro una pandemia voi potete studiare le mutazioni casuali del virus, la variabilità genetica del virus. Dovete ricordare, anche se non lo facciamo fino adesso, che più ci sono virus in circolazione, più ci saranno mutazioni, quindi varianti, quindi più possibilità che alcune di queste varianti per caso siano resistenti ai vaccini, quindi nuovi vaccini e quindi una lotta di coadattamento continuo tra noi e appunto gli sciami di varianti che continueranno a diffondersi. Addirittura questo virus si è diffuso così tanto che ha sviluppato le stesse mutazioni, addirittura in linee evolutive diverse, in parti diverse del mondo. Insomma, è stata una storia di evoluzione. E adesso possiamo dirla bene allora per evitare gli errori da cui siamo partiti. I vaccini non producono le mutazioni, ma i vaccini cosa fanno? Sostanzialmente introducono una nuova pressione selettiva, fanno sì che se dovesse venire fuori una variante resistente, quella variante avrà un grande successo, perché mentre tutte le altre vengono abbattute dal vaccino, lei resiste e resistendo ha un grande successo, esattamente come il batterio che sviluppa resistenza all'antibiotico. È lo stesso meccanismo darwiniano evolutivo e questa è una cosa molto importante da capire. Ecco la Regina Rossa, perché? La Regina Rossa è un personaggio di Lewis Carroll, di Alice nel Paese delle Meraviglie, in particolare del secondo libro, Attraverso lo specchio, dove ad un certo punto c'è Alice che reincontra la Regina Rossa e la Regina Rossa sta correndo, ansimante, ansiosa anche. E Alice le chiede, ma perché stai correndo così? Cosa c'è? Qual è il problema? E la Regina Rossa le risponde, ma non vedi? Non vedi che il mondo attorno a noi, il bosco, si sta spostando? Allora, se io voglio, dice la Regina, se voglio sembrare ferma rispetto a un mondo che si sposta, cosa devo fare? Devo correre. E se voglio spostarmi dentro un mondo che cambia, devo correre il doppio, perché correndo il doppio mi sposto. Ora, questo in Lewis Carroll, che sapete era un matematico, è una rielaborazione del principio di inerzia, no? Sono dentro un sistema che si muove, non me ne accorgo, eccetera, eccetera, ma lasciamo stare, non ci interessa. Qui perché ci interessa? Perché un mio collega evoluzionista qualche tempo fa ha detto, è così l'evoluzione. In particolare, è così la coevoluzione tra noi e gli agenti patogeni. Loro sono sempre un po' avanti, loro sono come il bosco che si sposta, e noi, ospiti, dobbiamo correre sempre più veloce per stare al loro passo, o se vogliamo essere intelligenti, dobbiamo correre un po' più veloce in modo da anticiparli. quindi noi siamo la regina rossa e siamo una regina rossa che corre per stare al passo con un mondo di malattie e di agenti patogeni che ce le portano. Solo che, adesso forse capirete il titolo strano, se noi siamo una regina rossa che fa i wet market, che fa deforestazione, che devasta l'ambiente di questi animali, che favorisce il contatto con questi animali portatori dei virus, noi siamo una regina rossa che si mette nei guai. E torniamo alla prima lezione, cioè noi siamo una regina rossa che non soltanto deve correre sempre più veloce per stare al passo col mondo, ma è lei che cambia il mondo, siamo noi che facciamo correre quel mondo sempre più veloce e quindi dobbiamo correre sempre più veloce. Quindi vedete che è ancora una chiave interpretativa di tipo evolutivo, si chiama proprio modello della regina rossa questo, che ti permette di capire bene perché è successo quello che è successo e come possiamo venirne fuori. Lì vedete proprio la citazione finale di questo editoriale di Nature dove cita proprio la regina rossa e ne parla. Quindi detto altrimenti, la regina rossa, il messaggio finale della regina rossa è questo, attenzione perché gli agenti patogeni sono molto più vecchi di noi, sono in circolazione su questo pianeta da miliardi di anni, sviluppano più mutazioni di noi, devono fare solo una cosa nella vita, copie di se stessi, mentre noi per fortuna ne facciamo tanti di più, abbiamo una vita molto più complessa e loro amano noi come ospite perché noi siamo l'ospite perfetto per questi virus, quindi siamo una regina rossa che rischia di mettersi nei guai. Non voglio essere pessimista però, nel senso, noi siamo una regina rossa intelligente, abbiamo tante armi per correre più veloce, l'igiene, il distanziamento sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, i vaccini, ma anche, aggiungiamoci anche, la protezione dell'ambiente, il rispetto della vita animale e, potremmo dire, One Health, cioè una salute integrata. Ecco perché adesso posso farvi vedere di nuovo l'immagine di Ebola, no? Che vi ho già fatto vedere nella prima lezione, adesso si capisce un po' di più, spero. Cioè, lì vedete proprio due fotografie, una volpe volante, un pipistrello di grandi dimensioni che è un magazzino di un sacco di virus, è un animale bellissimo, peraltro, meraviglioso, vive, se ne sta, bello e tranquillo nella foresta tropicale, ma ama molto i frutti. Se io lì vicino, devasto la foresta e faccio una piantagione di palme, i cui frutti magari sono prelibati per questi volpi volanti, loro escono e vengono a fare il loro mestiere, a mangiare fuori dalla foresta. Beh, c'è il forte sospetto che vedete spiegato in quei due articoli che vedete citati lì, che i focolai di Ebola in Africa centro-occidentale siano venuti fuori quasi sempre in queste condizioni. Quindi vedete che c'è un rapporto tra gestione del territorio, gestione della foresta pluviale equatoriale, piantagioni, vedete che è un'ingegnerizzazione di processo, maggiore probabilità di spillover, focolai pandemici potenziali di Ebola. C'è una connessione, le connessioni sono importanti, One Health, sfide globali, per capirle devi ragionare, lo ripeto, in termini sistemici, in termini di connessioni, perché allora intervenire diventa efficace se tu capisci quali sono le interdipendenze dei problemi in gioco. E quindi, se guardate questa foto tremenda, che io usavo prima della pandemia da Covid-19, un wet market, ce ne sono tanti in giro per il mondo, non soltanto in Asia, carne macellata, animali morti, animali vivi, animali morti sopra le gabbie di animali vivi, liquidi corporei che si mescolano, inservienti che lavorano a mani nude, clienti che arrivano lì e che toccano, totale mancanza di igiene, quello è l'habitat perfetto per il salto di specie, non ci vuole tanto a capirlo. Eppure quei wet market hanno una domanda economica in termini di alimentazione, ma anche in termini, sapete, di medicine tradizionali, perché le medicine tradizionali asiatiche, impropriamente, senza nessun fondamento scientifico, pensano che alcune parti di animali, pinne di squallo da mangiare, ma anche parti di tigre, corne di rinoceronte, scaglie di pangolino e così via, abbiano chissà quali poteri medicamentosi o addirittura afrodisiaci. Insomma, tutte queste sono cattive progettazioni che aumentano il rischio di effetti collaterali. E a questo punto abbiamo tutti gli elementi per capire che quando David Quammen, nel 2012, quindi sette anni prima di SARS-CoV-2, alla fine del suo libro scrisse, guardate, la prossima big one, la prossima grande pandemia avrà queste caratteristiche e ne ha elencate otto. Ora, voi le leggete tutte otto e le ha azzeccate tutte. Virus zoonotico da un animale selvatico, probabilmente un ipipestrello, amplificato in un altro animale, con molti asintomatici, probabilmente un wet market in Cina, le ha azzeccate tutte, probabilmente. Non era un mago, non è uno che fa vaticini, è uno che è andato in giro per il mondo, ha parlato con tutti i virologi che lavorano sul campo con questi virus e ha capito che correvamo un rischio. Questo è quello che deve fare la scienza, deve capire, nel caso delle sfide globali, quali rischi corriamo e proporci una progettazione diversa per ridurre quei rischi. Quindi pandemia ed ecologia, sì, c'è un rapporto tra questi due, tra queste due dimensioni. E qua vedete ancora una volta cos'è una predizione scientifica, l'abbiamo già detto nella lezione precedente. Una predizione scientifica è questa cosa qua, non è un vaticinio, è uno scenario, cioè ti dice, guarda, se andremo avanti così, cioè se continuiamo così, con questi habitat creati dall'uomo, rischiamo di avere la next big one. E infatti è arrivata. Come non poteva sapere se sarebbe arrivata nel 2019, nel 21, alle 23, nel 25, però correvamo un rischio. È un po' come molti di voi ingegneri sapranno e si occuperanno il rischio sismico. Io non so quando arriverà un terremoto, non so purtroppo dirti quando succederà in California il big one, però io so dirti che lì c'è un alto rischio ed è più che sufficiente. Non è necessario pretendere dalla scienza che mi dica la data, il giorno in cui succederà quella cosa. È sufficiente che mi dica, guarda, in quella regione, a causa di queste motivazioni, c'è quel rischio lì e questo è sufficiente perché gli ingegneri e gli architetti facciano edifici adeguatamente antisismici. Giusto? Quindi questo è quello che deve fare la scienza. Predizioni di scenario, predizioni di rischio. Il resto è politica, il resto è progettazione, il resto è intelligenza umana, il resto è capacità di pensare anche per le future generazioni. E allora voglio chiudere quest'ultimo quarto d'ora che mi resta provando ad allargare ulteriormente il quadro. Abbiamo fatto questo esempio della pandemia che era molto specifico, però poi lo abbiamo ricollegato, avete visto, al quadro generale della costruzione di nicchia di cui vi ho parlato. Adesso proviamo ad allargare ulteriormente perché questo discorso ci servirà per la lezione terza e la lezione quarta. Allora perché noi dobbiamo fidarci della scienza? Perché possiamo fidarci della scienza? Può sembrare una domanda banale, in realtà non lo è affatto. Vi suggerirò poi a un'altra lettura molto interessante di un libro che prova a rispondere a questa domanda. È una domanda importante da farsi ancora una volta dopo la pandemia, perché la pandemia è stato uno shock da tutti i punti di vista, ma è stato uno shock anche dal punto di vista della comunicazione della scienza. Non era mai successo prima che gli scienziati fossero messi in prima pagina e andassero in televisione dalla mattina alla sera tutti i giorni della settimana, sui mass media di maggiore diffusione e visibilità. Non erano preparati chiaramente e nelle prime fasi soprattutto c'era tantissima incertezza. Poi è successo qualcosa per cui anche molti si sono fatti prendere da dinamiche mediatiche molto discutibili. Sono stati fatti tanti errori di comunicazione, però al di là di questo c'è una difficoltà intrinseca nel capire la scienza. Qui vi ho fatto un elenco, una sorta di decalogo di tutte le difficoltà che ci sono quando voi ingegneri, scienziati, tecnologi avrete a che fare con il pubblico. Questo è importante. Secondo me in ogni Politecnico, in ogni grande università dovrebbe esserci un corso di comunicazione della scienza, perché sempre di più voi qualunque mestiere andrete a fare, in qualunque campo lo farete, dovrete avere a che fare con la società, con il pubblico, con le aspettative, con le paure, le incertezze del pubblico. Dovrete raccontare quello che fate, dovete comunicarlo e non sarà per niente facile. Prendiamo l'esempio della pandemia. Durante la pandemia devi spiegare l'incertezza e l'ignoranza, perché non sai un sacco di cose. si è stato colpito, una tempesta perfetta, un agente patogeno sconosciuto. Tante competenze sono necessarie per capire cosa succede, non solo i virologi, gli epidemiologi, i medici, gli ecologi, l'abbiamo visto prima, chi studia l'evoluzione. La scienza non può essere troppo fast, non può essere troppo veloce, perché ha bisogno dei suoi tempi di verifica, ha bisogno dei suoi luoghi istituzionali in cui svolgere il dibattito scientifico, confrontare le ipotesi, deve condividere i dati al suo interno e poi all'esterno, ha una responsabilità sociale, deve semplificare quello che racconta, deve spiegare il consenso scientifico su un certo problema difficilissimo da fare, perché un conto è parlare a titolo personale, cosa che si può sempre fare, altro conto è spiegare qual è il consenso su un certo problema scientifico o tecnico, quello dovrebbe farlo un'istituzione, più che non il singolo scienziato. Poi bisogna ammettere di non sapere le cose, cosa che abbiamo fatto tanta fatica a fare, cioè spesso quando viene chiesto a uno scienziato di dare certezze, di fare previsioni precise, lo scienziato e l'ingegnere dovrebbero dire non lo sappiamo, non lo sappiamo ancora, stiamo cercando di capire, vi faremo sapere, ma non provare a rispondere a tutti i costi, perché la scienza si basa su una laboriosa, faticosa acquisizione di sempre minore incertezza, ma comunque sempre dentro l'incertezza. Poi ci sono, l'abbiamo già visto, molti argomenti controintuitivi, l'abbiamo visto già con il climate change, ci torneremo, e poi devi far capire il metodo scientifico quando racconti la scienza. Poi c'è un altro problema ulteriore, un problema aggiuntivo. Il problema aggiuntivo è che ci sono molti che fanno antiscienza e pseudoscienza, che sono due cose diverse. L'antiscienza è un insieme di posizioni direttamente polemiche e critiche contro la scienza, e ce ne sono tante. La pseudoscienza è ancora peggio, ancora più pericolosa, perché è uno scimmiottamento della vera scienza per negarla. Le fake news spesso sono pseudoscienza, sono fatte bene purtroppo, sono costruite in modo tale da sembrare scientifiche, ma in realtà hanno un contenuto antiscientifico. Qual è il problema nel caso delle fake news, per esempio, con le quali anche voi purtroppo avrete a che fare, perché ormai sono un fenomeno radicato e diffuso. Ci sono sempre state ovviamente, però adesso il web, la rete, è diventata una nicchia ecologica perfetta per le fake news. Il problema lo vedete qua, no? Le fake news ci piacciono un sacco, cioè colonizzano facilmente la nostra mente, perché sono basate su dei trucchi che ci piacciono, che ci persuadono. Il cospirazionismo, vedere complotti dappertutto, pensare che ci siano agenti nascosti che spiegano cose che noi non capiamo. Il vittimismo, pensare che ci sia un mainstream informativo che blocca le informazioni, invece noi, eroi solitari, vi diamo una verità alternativa, i fatti alternativi. È tutta una retorica che funziona. E poi vedete tutto attorno, ci sono delle condizioni che la favoriscono, interessi economici, tantissimi, la sfiducia verso le istituzioni, insoddisfazione sociale, fragilità educativa, eccetera, eccetera. Questo perché ve lo dico? Perché quando avrete a che fare, e ognuno di noi sostanzialmente, anche nella nostra vita personale e privata purtroppo ne ha a che fare, con questi tipi di posizioni, ricordiamoci che non sono soltanto frutto di ignoranza o di cattiveria, ma sono il frutto di una costruzione, di una macchinazione, di un progetto che può essere molto pericoloso. E allora come fronteggiarlo? Beh, vi faccio un esempio che mi ha colpito molto. Questo è un lavoro che, qui vedete un Scientific American poi ne ha parlato. È stato fatto un esperimento con gli studenti sottoposti a diverse fake news, quindi proprio un esperimento quasi di laboratorio, un esperimento sociale. E sono state messe a confronto diverse strategie per sconfiggere le fake news, per metterle in discussione. E si è scoperta una cosa interessante. Se voi le fake news vi limitate semplicemente a smentirle, cioè a fare quella che si chiama debunking, quindi la prendi, spieghi perché è sbagliata, la falsifichi, la smentisci. Ottieni qualche effetto, ma in realtà è un effetto limitato, nel senso che tendi a convincere quelli che già erano predisposti ad artiretta, ma quelli che invece sono più soggetti alla fake news si convincono ancora di più, si polarizzano. C'è questo effetto che si chiama backfire effect. E quindi si convincono ancora di più che tu gli stai raccontando qualcosa per un secondo fine, perché sei un rappresentante dell'establishment. Allora la cosa interessante invece è che se tu associ a questa smentita, quindi smentisci la fake news, ma poi la smonti anche. Cioè cosa vuol dire? Non ti limiti a dire che è falsa, ma spieghi come è fatta, spieghi quali sono i trucchi attraverso i quali è costruita, spieghi i meccanismi che usano, la pubblicità che c'è dietro, la struttura di pensiero che crea confusione che c'è dietro. Cioè insomma fornisci a questi studenti l'antidoto per riconoscerle loro, non soltanto per smentirla tu. Questo si chiama technical rebuttal, non è soltanto un debank e funziona molto di più. Funziona molto di più, ti convince di più, perché inoculi in qualche modo un vaccino contro i fatti alternativi, contro i fatti falsi e contro le fake news. Questo è molto interessante perché ancora una volta vi fa capire che anche da ingegneri futuri capire quali sono le basi del metodo scientifico e quindi per ovviamente capire anche quali sono i trucchi di chi scimmiotta questo metodo scientifico per ribaltarlo, per rovesciarti conto dei contenuti falsi, è importante. Uno scienziato, un ingegnere non deve mai essere solo un tecnico, ma deve essere appunto uno scienziato, avere delle domande di ricerca, conoscere bene il metodo scientifico, perché in questo modo, so che può sembrare strano ma vi assicuro che è così, imparerete anche a comunicare meglio, imparerete anche a esprimere, a condividere meglio e a difendere meglio le vostre ricerche, i vostri risultati, il frutto della vostra fatica in laboratorio, nei centri di ricerca e di progettazione. Quindi questa è una cosa importante, le fake news sono solo un esempio, ma ancora una volta, di un tema più generale. E questo è il libro che vi suggerisco, è appena uscito in italiano, quindi potete leggerlo anche in italiano, l'autrice si chiama Naomi Oreskes, è una importantissima storica della scienza, insegna a Harvard, è anche una scienziata, è una geologa, si è occupata delle geoscienze, però adesso sostanzialmente fa la storica della scienza e insegna sociologia della scienza, la quale ha scritto questo, lei è nota per un libro di cui parleremo anche nelle prossime lezioni, che si chiamava Mercanti di dubbi, ed era un libro nel quale lei mostrava tutte le tecniche utilizzate dai negazionisti scientifici, cioè da quelli che per esempio per tanti anni negarono gli effetti del fumo di sigaretta, quelli che negarono l'esistenza delle piogge acide e poi quelli che cominciarono a negare il fatto che il riscaldamento climatico fosse dovuto alle attività umane, tutte le negazioni delle evidenze, insomma. Ne analizzò le strategie e cercò di capire in che modo noi potevamo contrastare questi atteggiamenti antiscientifici. E qual è la tesi che lei sostiene in questo libro? Una tesi che forse vi sembrerà, forse non sarete d'accordo come ingegneri, però provate a rifletterci. Lei dice, tutto sommato, noi non dobbiamo fidarci della scienza soltanto perché fornisce certezze e su questo possiamo essere d'accordo, nel senso le certezze uno le deve cercare da qualche altra parte se proprio le vuole, nella filosofia, nella metafisica, nelle religioni. La scienza non è il posto in cui cerca le certezze, perché la scienza è un metodo, è un esercizio di scetticismo, di continua revisione dei propri risultati, di dubbio e poi di ignoranza, perché devi sapere che non sai le cose. È arrivato un virus nuovo, all'inizio non sapevamo da che parte prenderlo. Ci sono volute settimane, l'abbiamo studiato geneticamente, abbiamo capito cos'era e poi abbiamo cominciato a intervenire, ci ha avuto tempo, siamo stati esposti all'ignoranza, all'incertezza, è normale nella scienza. Quindi non è questo il motivo per cui dobbiamo fidarci della scienza. Poi Loresches dice un'altra cosa che forse, ripeto, a voi ingegneri non piacerà. Dice, la scienza non ti devi fidare perché funziona, perché le dighe stanno su, perché i ponti stanno su, perché gli aerei volano. Certo, intuitivamente è così, io salgo su un aereo perché mi fido delle leggi scientifiche che ci stanno dietro e mi fido del fatto che hanno messo insieme milioni di pezzi, non mi ricordo quanti, ma so che sono milioni per fare un Boeing 747. Mi fido, mi fido dei tecnici. Quello non è il motivo per cui veramente devi fidarti della scienza. E fa un controesempio interessante, dice, in passato ci sono state teorie scientifiche sbagliate, per esempio quelle che pensavano che esistesse il flogisto, cioè l'elemento che generava la combustione, o l'etere, che ci ha voluto Einstein e tanti altri prima per capire che non esiste l'etere, inteso come mezzo di diffusione, ma quelle teorie, limitatamente ad alcune applicazioni tecniche, funzionavano lo stesso. Quindi la teoria di per sé, anche se contiene degli errori, può funzionare certe volte. Quindi non è che perché funziona è sicuramente tutta giusta, o perché ci vuole dire questa cosa, la Oreskes. Ci vuole dire questa cosa perché la sua tesi è molto controintuitiva, ma io trovo sia molto bella, ed è, noi dobbiamo fidarci della scienza perché sbaglia. Cioè dobbiamo fidarci della scienza perché, sbagliando, continua a rivedere i propri risultati. E il risultato è che, a forza di scetticismo, la conoscenza aumenta sempre di più, anziché diminuire. Ecco cos'è il consenso sociale, il consenso scientifico, sulle evidenze corroborate. È quella situazione in cui gli scienziati capiscono che su un certo dato scientifico siamo ragionevolmente sicuri e non lo si mette più in discussione. Anche se magari, e succede sempre, c'è qualche scienziato suo, eterodosso, che magari lo nega. Il consenso scientifico è importantissimo. Noi oggi sappiamo, oltre ogni ragionevole dubbio, che non c'è nessun rapporto di causa-effetto tra i vaccini e l'autismo, per esempio. Perché lo sappiamo? Perché abbiamo scoperto che quell'articolo era una truffa, siamo andati a controllare, abbiamo verificato, abbiamo tentato tutte le correlazioni possibili e la risposta è no, non c'è. Quello è un consenso scientifico e non si discute più, salvo chissà quali del tutto improbabili nuove osservazioni. Non si discute più. Quello è un consenso scientifico. Sul fatto che il clima si sta andando verso temperature medie globali più alte, è un dato di fatto, oltre ogni ragionevole dubbio, troverete sempre qualche fisico, qualche ingegnere, che ne so, che negherà questo. Ma i climatologi e la comunità di riferimento ha raggiunto un consenso scientifico su questo. Rivedibile, evolve, cambia, si aggiorna, ma al momento è il consenso scientifico stabilito. Questa è una cosa importante, no? In senso, la Oreskes dice, alla fine noi ci fidiamo della scienza perché sbaglia e perché è un continuo processo di revisione sociale dei propri risultati. E questo è importantissimo perché, e vado a chiudere su questo, la scienza è una forma di pensiero in cui le nostre inferenze logiche, cioè i nostri tipi di ragionamento, ci portano a conoscere sempre di più, ma non saremo mai sicuri del risultato finale. Ci sarà sempre la possibilità che arrivi qualcuno, magari giovane come voi, che metterà in discussione delle teorie consolidate. E se avete l'onere della prova, se avete delle buone evidenze, dei buoni ragionamenti, delle buone critiche da fare, questo è normale che succeda. Ed è giusto che succeda. Perché la scienza è un'avventura di antagonismo continuo, lo scoprirete anche voi. Voi farete la tesi di laurea, poi farete la tesi di magistrale, poi magari farete ricerca, andrete in un laboratorio e vi verrà chiesto più volte di difendere le vostre idee, di spiegare cosa avete fatto davanti a una commissione, che magari sarà anche un po' ostile nei vostri confronti, o comunque che cercherà di mettervi in difficoltà e proverà a trovare i punti deboli del vostro lavoro e vi dirà, no ma questo non mi convince, ah ma questo era già stato detto, ah ma guarda che qui stai scoprendo l'acqua calda, ah ma guarda che qui e voi dovrete in modo veloce, rapido, perché non avrete tanto tempo, nei convegni scientifici avete 10 minuti più 5 minuti di dibattito, veloci, ci vuole una capacità di ragionamento, di rapidità di risposta che si ottiene soltanto se ragionate su quello che fate, se ragionate sul metodo scientifico e se imparate a comunicarlo, se vi esercitate a difendere le vostre idee e non dovete offendervi se attaccheranno il vostro lavoro, se cercheranno di smontarlo, non dovete prenderla sul personale, perché questo è il gioco della scienza, no? Io quando sono andato negli Stati Uniti, lavoravo negli Stati Uniti, mi ricordo che le prime volte ci sono rimasto malissimo e anche voi ci rimarrete malissimo, lavoravo in un grande centro di ricerca molto autorevole, importante, ho cominciato a fare i miei primi lavori, a un certo punto il mio capo mi ha detto adesso settimana prossima fai un seminario e lo spieghi, facevo il seminario, davanti a me avevo dei mostri sacri della disciplina e qualche volta mi hanno massacrato, proprio hanno distrutto le mie idee, io ho cercato di rispondere, loro hanno apprezzato le risposte e dopo un quarto d'ora eravamo a berci una birra giù al bar e a parlare di tutt'altro e lì ho capito, ho capito una cosa importante del metodo scientifico che è l'antagonismo e il confronto delle idee che non è sul piano personale o non dovrebbe esserlo, ma è sempre sul piano dei contenuti e questo permette poi la crescita delle conoscenze e poi vi prenderete delle belle soddisfazioni perché poi magari dopo un po' di tempo quei mostri sacri magari diranno che avete ragione voi perché dopo sono state scoperte altre cose che magari daranno ragione a voi. Questa è la bellezza formidabile, democratica anche della scienza. Quindi l'ultimo messaggio che vi do e poi la prossima volta prenderemo un altro caso in esame per tornare a discutere di sfide globali e di grandi fenomeni, di grandi sfide, il metodo scientifico e la procedura scientifica che da ingegneri dovrete avere e dovrete applicare anche perché rispetto a chi fa ricerca pura, chi lavora sulla progettazione e poi realizza qualcosa ha una responsabilità sociale ulteriore ovviamente, ce l'hanno anche gli altri e ce l'hanno tutti, ma chiaramente nel vostro caso è ancora più esplicita e la sentirete addosso. Quindi un suggerimento che vi do, tutto quello che studierete in questi corsi più introduttivi e in altri, cercate di farlo sempre con una consapevolezza nei confronti del metodo scientifico e di come funziona la scienza. Ricapitoliamo quindi i contenuti della seconda parte di questa seconda lezione. Allora abbiamo visto che nell'era pandemica agenti patogeni, ospiti e ambienti formano un'ecologia complessa, un triangolo di relazioni molto complicate. Abbiamo visto che le pandemie vanno considerate quindi a tutti gli effetti come un costo ambientale dovuto alla creazione di nicchie antropiche, cioè tipiche nostre, e che un approccio evolutivo permette, come nel caso di David Cuomo e ne molti altri, di fare predizioni precise, anche se purtroppo inascoltate. Per esempio sappiamo che vaccinando soltanto la parte ricca del mondo si svilupperanno nuove varianti. Infine abbiamo parlato del modello della regina rossa, che descrive la continua rincorsa tra gli agenti patogeni e gli ospiti e, in generale, tra gli organismi e gli ambienti che cambiano. Quindi a presto, buon lavoro e arrivederci alla prossima terza lezione.